Un saluto ben ritrovati con le tendenze a medio e lungo termine di Trebi Meteo. Diamo uno sguardo a ciò che accadrà sul nostro paese attorno al 20-22 marzo, quando una nuova massa d'aria gelida che continua a sostare sull'Europa orientale tenderà a interessare ancora una volta la penisola ellenica, il Mediterraneo orientale, ma anche coinvolgendo l'Italia, soprattutto le regioni del sud, provocando un nuovo calo deciso delle temperature con condizioni climatiche invernali e anche qualche fiocco di neve fino a bassa quota, soprattutto all'estremo sud, fino a quote collinari. La situazione per il resto d'Italia sarà nel complesso migliore, seppur con temperature che scenderanno un po' ovunque, proprio per effetto di questo campo di alta pressione che dal Nord Africa in qualche modo si estenderà verso il centro di alta pressione presente sull'Europa settentrionale, con condizioni quindi, come dicevo, nel complesso più soleggiate sul resto d'Italia, ma appunto la variabilità insisterà sull'estremo sud con clima particolarmente freddo. Per tutti i dettagli, come sempre, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.